Cesta giornata di Europa League, Roma-Praga. Gilleschi sterza, appoggio per Pellegrini. Al limite, Pellegrini, il tiro! Sì! 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 Del capitano! Ben tornato Lorenzo! Mancini il cross tagliato dentro. Pellegrini! Traversa fuori. Saoud, il taglio dentro per Cone, Cone, Cone per Pellegrini. Fuori! Lato corto dell'area di rigore, indietro per Pellegrini. Zona, tiro, il tiro deviato. Mateus, gran parata. La deviazione indica ancora Mateus. Pellegrini, punta del limite, scarico dentro. Per Saoud, il tiro! Goal! Ha segnato a Saoud! Palla profonda. Verso Sule, che simbola. Foglio! Sule, 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 Sule. La parata ancora Sule. Dalla linea di fondo ancora Mateus. Palla profonda destra per Saoud. Esce il portiere Saoud. Il tiro con la mano, il portiere. Con la mano. Con la mano. Eh sì, arriva il fischio di Sibir. Arriverà anche il cartellino rosso. Ancora Stefan per Zaleski, linea di fondo. Palla dentro, verso tutto anticipato. Poi le Sharawi, respinto sulla linea. Ancora Stefan, prova la rovesciata. La parata. Dobbic prova a girarsi. Numero di Dobbic, il tiro, la parata. Ancora Dobbic di testa, la respinta. La palla resta lì, Zaleski chiuso. Un po' dietro per Conea, al limite Conea. Verso Indicaa, il tiro di Indicaa. Ornicek, poi il gol di Mario Erboso. Roma 3, draga 0. Fischio e il signor Sibert vince la Roma. Sibir. 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 Sibir.